25.08 di 3 Italia, provvedente da Sulla Piazza Principe e livello ritorino con la nuova delle 2.10.31 è in arrivo al binario 5. Attenzione, allontanarsi dalla linea giallata, prima A, assicurire in conto. 25.08 di 3 Italia, provvedente da Sulla Piazza Principe e livello ritorno con la nuova delle 2.10.31 è in arrivo al binario 5. Attenzione, allontanarsi dalla linea giallata, prima A, assicurire in conto. 25.08 di 3 Italia, provvedente da Sulla Piazza Principe e livello ritorno con la nuova delle 2.10.31 è in arrivo al binario 5. Attenzione, allontanarsi dalla linea giallata, prima A, assicurire in conto.